Che cos'è il content marketing? Ovviamente si tratta di una strategia di marketing che si basa sulla creazione e condivisione di contenuti su determinate piattaforme, ma questa creazione di contenuti è sì, ha sì l'obiettivo di portare attenzione verso il brand e verso il prodotto, ma non si concentra sul prodotto, quindi non si concentra e descrive il prodotto che sto cercando di vendere, ma crea un'esperienza. Quindi è content marketing un post carosello che ci informa sui benefici di bere tanta acqua e di restare idratati, magari fatto da una clinica che vuole far vedere la loro competenza in ambito medico e vuole portare attenzione e fiducia verso il brand, ma uno dei più grandi esempi di content marketing, giusto per capire di che stiamo parlando, è la guida Michelin, qualcosa che non sta parlando di un prodotto specifico, ma che porta attenzione e valore verso il brand.